forse quindi rimane già quella roba lì non mi sono mai forte sì 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 però mi manca è da andare su qua perché non so come associazione ah come associazione no, le facciamo tante però ci siamo in promette sì fai due o tre ore a loro c'è la roba ma adesso puoi il nano no 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 Grazie. 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 Grazie.